Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Troutaria Questo video è leggermente diverso rispetto agli altri Ditemi anche la vostra nei commenti E mi raccomando lasciate tanti like per questo video Condividetelo e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Vi lascio a queste tante catture e guardatevelo fino alla fine Quindi via col video Grazie a tutti 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 e butta ti fa saltare dentro sul lago così ti fa finta che ti ha giappato ciao